La rivista Aste Giudiziari, edita da Edicon Finance sin dal 1997, è la prima rivista quindicinale specializzata nella vendita degli immobili in tutto il panorama dell'editoria nazionale. La pubblicazione è composta da 250 pagine di nuovi annunci con foto a colori e planimetrie dettagliate di appartamenti, case, ville e terreni in asta. Ogni mese, oltre 3.000 nuove vendite in tutta Italia. Scopri tutte le migliori opportunità di acquisto nella tua città. La ricerca è facile e dettagliata. Regione, provincia, comune, prezzo, foto, planimetrie e sintesi dell'aperizia di stima. All'interno della rivista troverai sempre una guida informativa a carattere generale che ti guiderà in modo semplice ed intuitivo nel mondo delle vendite giudiziarie. Per informazioni, numero verde 800 630 663. Rivista Aste Giudiziarie, da 14 anni al servizio per il cittadino, distribuita nelle migliori edicole o su abbonamento.